amici del portai del verde buongiorno ben ritrovati oggi insieme a fabio di gioia che qui guardate sulla scala già pronto con tanto di mastice andremo a fare con l'operazione che lui in toscano chiama masticciatura masticciatura si usa farla quando fabio quando facciamo dei tagli abbastanza importanti quindi tagli di una grossa dimensione è necessario porre diciamo del mastice per favorire la cicatrizzazione delle ferite in questo caso perché queste ferite soprattutto se siamo in un periodo umido e se siamo in un periodo freddo si possono in qualche modo infettare in questo caso sono ferite dovute alla potatura alla potatura ne vediamo una guardate qui è stata fatta è stato tagliato un grosso allora andiamo a mettere ecco questo un mastice apposito no che viene venduto nelle varie agrarie della situazione e lo si mette su così tranquillamente come se fosse un come si può dire come se fosse una un pennello come se fosse della 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 vernice della vernice molto densa questo serve per far cicatrizzare quelle che sono le ferite quanto ci mette a seccare questo mastice e questo ci metterà un giorno una giornata è già secco sposto e quindi quando noi facciamo la potatura una potatura un po pesante come è stata fatta in questo per cocco bisogna masticiare ma è una cosa adesso faccio una domanda un po così un po forse banale ma è che tanti siano ma è una cosa che viene fatta diciamo così da quelli che io chiamo i perfettini della situazione quelli che vogliono fare le cose a regola d'arte ma può essere anche evitata oppure è fondamentale secondo fabio di gioia secondo me è fondamentale cioè parecchi non la fanno ma secondo me è fondamentale soprattutto se si fanno tagli una certa dimensione soprattutto tagli anche che non sono venuti bene ora in questo caso se sono tagli piccoli quindi ok la pianta se c'è la ferita tende a tende a rimarginarsi abbastanza bene ma un taglio grosso un taglio grosso quindi ha più lentezza a rimarginarsi quindi in questo caso è sempre bene quindi può porre del mastice per facilitare la cicatrizzazione poi il mastice contiene anche del rame può contenere anche del rame e il rame ha un disinfettante quindi allora il consiglio che ci dà l'esperto e fabio di gioia è un esperto ve lo posso assicurare di potatura e tiene corso in tutta italia su le tecniche appunto di potatura gli innesti e quant'altro quindi il masticiare così come lo chiamo a lui non è un optional ma è una buona regola da seguire quindi alessandro fabio di gioia che in questo momento sta ultimando le masticiature su questo bel percocco vi salutano vi rimandano al prossimo video e ricordate di farla questa operazione soprattutto ogni qualvolta andate e anche quando ci sono delle ferite della natura giusto? esatto qualche ramo spezzato che magari il vento ha rotto quindi andiamo a fare questa operazione che fa tanto bene alle nostre piante ricordate sempre di mettere un bel pollice all'insù se questi video le avete ritenuti utili per voi e per gli altri ed iscrivetevi al nostro canale buona serata buona serata